bentornati nuovamente a suonati po bene il podcast che parla di film serie tv e videogiochi ma attraverso la loro colonna sonora io sono fabio antonelli e oggi andiamo finalmente a parlare dell'episodio che mi avete chiesto da circa quattro anni andiamo a parlare della colonna sonora del signore degli anelli lo andiamo a fare insieme a due ospiti più che speciali perché mi hanno atteso chi per tanto chi per di più oggi abbiamo la bellissima fortuna di avere autore regista e divulgatore di cinema anche nelle sue collaborazioni con slim dogs mauro zingarelli salve a tutti e produttore nonché uno dei fondatori della slim dogs marco cioni ciao grazie dell'invito ma che ragazzi a voi c'è una cosa molto importante che devo dire in apertura ed è la seguente io ho un messaggio in cui ho chiesto a mauro zingarelli far parte di questo podcast che risale a tre anni fa e un mese vero sei uno che programma sei un programmatore io sono uno che programma infatti la cosa molto particolare è che tante volte le persone pensano di essere troppo impegnate in quel momento e mi dicono no guarda ma io fino a marzo sono impegnato stai tranquillo sì di che anno io penso che ti risposto una cosa del genere cioè ricordo di averti detto tipo ah sì guarda ci sto fichissimo certo non so quando però dai stacco tre anni e mezzo dopo io non avevo un figlio quando tu hai proposto questa cosa è tutto bellissimo però ce l'abbiamo fatta finalmente allora leggerei velocissimamente due notine una la vado a prendere dal secondo episodio sul ragazzo e l'airone matteo falato dice mentre vado ad ascoltare questa seconda parte un solo pensiero mi tormenta della prima perché non c'è una puntata dedicata a nobuo mazzo e final fantasy eppure da intro citi videogiochi allora matteo grazie per avermi fatto questa domanda in realtà è molto importante perché tante persone mi dicono ma perché non parli tanto di videogiochi la ragione è molto semplice sono un videogiocatore monogamo io non inizio una nuova relazione con un videogioco finché non ho terminato la relazione con quello precedente è per questo che avendo pochissimo tempo purtroppo in questo istante sto giocando relativamente poco e mi mantengo un episodio a stagione sui videogiochi infatti se ci fate caso ci sono tre episodi che parlano di musiche legate ai videogiochi fin'oggi quindi manca quello della quarta chissà quale sarà altra nota sempre da spotify in questo caso molto corta ma molto d'effetto e sono molto d'accordo erica rossi dice che progetto pazzesco in merito alla food ensemble e francesco sarkone l'ultimo episodio quello intervista appunto a francesco è stato veramente molto interessante è veramente una cosa che mi ha fatto esplodere il cervello dalla creatività e dalla ispirazione che può dare una storia del genere grazie ancora erica grazie ancora tutti i commenti e tutte le note e adesso andiamo avanti con l'episodio allora io direi in realtà la cosa particolare col quale voglio partire su questo episodio ragazzi è una domanda semplice ma non scontata a voi la colonna sonora del signore degli anelli vi piace faccio fare prima mauro vai così attacca con questo un'ora e quaranta no no io sono morto allora io ho un grave problema non che ne capisco assolutamente una ceppa di musica quindi in realtà la campo su cui so di meno la colonna sonora del signore degli anelli a me provoca proprio le lacrime però è una questione di emotività di nostalgia cioè per me è legato a mi ripenso la prima volta che ho pianto ascoltando la colonna sonora del signore degli anelli è il tema della contea quando l'ho sentita nell'hobbit quando lui dice voglio andare a fare un'avventura e riparte il tema della contea io sento il cuore che mi si appesantiva però sì cioè non riesco a distinguere quanto mi piaccia perché è una bellissima colonna sonora e quanto mi piaccia perché fa parte di uno dei miei film preferiti del dell'universo perfetto ottimo sei già il 50 per cento del mio perfetto pubblico di oggi ottimo passiamo a marco io penso che se mauro dice che è meno esperto in quella roba io ti dico io di musica non ne capisco proprio un cazzo di niente non so come siamo messi a parolacce posso dire parolacce puoi dire tutto quello che vuoi ok non ne capisco proprio un cazzo di niente nel senso che io non ho un genere sono proprio quel tipo di persona che io non mi sono mai messo tipo sdraiato su un letto ad ascoltare un album bene tutto un album perché tipo che palle però la colonna sonora del signor di anelli secondo me guardando i film ti dico è la roba che forse mi è rimasta di più addosso paradossalmente c'è di tutti i film io raramente faccio veramente casa la colonna sonora tranne proprio le cose classiconi john williams star wars harry potter però il signor di anelli è proprio quella che ti resta in testa ma perché a me piace il fatto che in realtà è molto tolkeniana la questione musicale perché poi vabbè non so quanti hanno letto il simarillion però nasce tutto da là in realtà ok cioè tu non l'hai letto il simarillion no zio praticamente il dio che crea tutta la terra in cui si ambienta l'universo del signor di anelli la creazione nasce dalla musica è tutto basato sulla creazione del musicale di una melodia che va poi a formare il mondo e infatti il primo cattivone del simarillion che è un protosauron che è melcor si sviluppa in dissonanza con tutti gli altri e quindi poi per quello è il male capito allora ragazzi già avevo detto sta cosa ma ridico grazie per essere qui dai scusate sto in fissa allora io in realtà volevo partire da questa cosa perché secondo me la colonna sonora del signore di anelli è molto probabilmente la migliore colonna sonora che abbiamo in tutti i campi a me piace sempre pensare un po un po come i personaggi di fifa che hanno vari varie qualità no c'è quello che c'ha attacco però difesa è scarso però il pentagramma quello che dici bravissimo attacco difesa velocità esatto la colonna sonora del signore di anelli è quella che c'ha il cerchio più grande di tutti c'ha tutti 99 mazza quindi è quella che ti fa urlare quando la trovi e tu a fifa 2006 bravo bravo e tu bravo mi sa che era appena dimostrato la vostra età chiunque fosse leggermente più giovane ad ogni modo che volevo dire per me è importante in questo episodio siccome andiamo a trattare effettivamente appunto come diceva mauro un film che ha fatto proprio l'anima e la storia di alcuni di noi automaticamente si tende ad amarlo anche perché ha una musica oggettivamente piacevolissima ad ascoltarsi è proprio bella però io vorrei fare un passo indietro per quanto riguarda questa colonna sonora perché la grandezza di questo film di questa colonna sonora sta nel fatto che nonostante sia incredibile sia anche bella cioè quando noi diciamo mi piace quella colonna sonora io vi posso assicurare che state guardando il fatto che la punta dell'iceberg è fatta bene ma non avete idea di tutto quello che c'è sta sotto e a livello compositivo pensare ad una cosa genere è veramente una roba a metà fra l'assurdo e la psicopatia totale come tutte quelle cose fatte bene sì però in questo in questo sono molto incuriosito perché appunto essendo voi esperti sicuramente mauro anche a livello di come peter jackson ha lavorato a questo film io sono molto curioso alla fine di questo episodio in mezzo a questo episodio di capire se di fatto Howard Shore che è il compositore di questa colonna sonora sta al signore di anelli più come starebbe tolkien che peter jackson perché letteralmente ha scritto tutto è una cosa fuori di test un'affermazione forte la tua ma mi piace fare affermazioni forti quando so che dentro le tasche c'ho tanta 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 roba da dire va bene scopri queste carte allora quando poi sai che la community del signore di anelli non è affatto violenta la prendono bene ad ogni modo facendo un passo indietro prima di tutto parliamo di Howard Shore non so se voi sapete che Howard Shore tecnicamente prima di questo film ha un ottimo curriculum ma è l'ultimo personaggio che ci saremmo mai immaginati nei primi del 2000 o quando cavolo sono iniziate le produzioni quando è iniziata la produzione di questo film è una roba che è durata tantissimo tempo però è iniziata penso fino al 90 è uscito nel 2001 quindi sì gli hanno già tutti tre insieme è stata quella cosa particolare quindi in realtà è un'unica lunghissima non è mai finita è ancora in corso in realtà però che non lo sappiamo hanno appena annunciato il film su su golum quindi in realtà perché una cosa insomma abbastanza importante non so se voi sapete che in realtà Howard Shore che oggi conosciamo immediatamente come colui che ha fatto la musica lirica e meravigliosa del signore delle anelli fino a quel momento aveva fatto tutti i film di Gronenberg quindi assolutamente lirici david fincher quindi lui è il compositore di seven the game quindi tutto il david fincher prima di trent resnor e atticus ross tutte cose rilassate diciamo prima che fincher scoprisse l'elettronica esatto esatto e poi lui è il compositore di big film quello con tom hanks e mrs doubtfire ammazza e vabbè ovviamente silenzio gli innocenti sempre cose tranquille da vedere con la famiglia i figli esatto quindi pensate per un istante che cavolo in un certo qual senso di rischio e ti sei andato a prendere un compositore che oggettivamente fino a quel momento aveva un ottimo curriculum Howard Shore inoltre è il compositore della musica del saturday night live degli anni 80 e 90 però ecco fino a quel momento non aveva fatto nulla appunto di anzitutto di questa levatura ma anche proprio di questa ambientazione non è prendere john williams per fare ripotti che insomma è relativamente una scommessa facile cosa ha spinto il nostro pietro giaccone a sceglierlo allora la unica informazione che ho trovato che sembra che nella autobiografia di peter jackson ci sia scritto che il montatore aveva montato sugli storyboard le musiche del silenzio degli innocenti e poi è stato licenziato il montatore subito dopo e lo trovavano più adatto delle musiche di brave art che avevano appunto provato anche quindi è completamente casuale cioè hanno preso due film a caso perché il silenzio degli innocenti e brave art non so Mauro beh brave art comunque sai castelli cavalieri e roba del genere però dico hai scelto due film casuali dalla filmografia del mondo sì anche questo è vero forse sì non è che dici sai hai preso che ne so brave art e due cose con le spalle esatto che è il discorso dragon art no hai preso silenzio degli innocenti che non lo so però va bene forse è per sauron silenzio degli innocenti ah dici il male per gollum per gollum c'è il male sì esatto dai e una cosa molto interessante è il fatto che quello che nessuno sapeva è che our shore è un appassionato del signore degli anelli ha letto tutti i libri li sa a memoria adora questa storia e di conseguenza nel momento in cui riceve una telefonata da peter jackson gli dice senti io pensavo a te molla tutto prende un aereo e va in nuova zelanda a parlarci direttamente dice aspetta aspetta se vediamo tra 23 ore guarda tanto dovevo già venire non ti preoccupare ci metto un attimo ma non ti scomodare no guarda prendo il racconto comunque è un attimo dopo domani dovevo andare là certo a latina è un attimo è di passaggio esatto e in questo modo nasce la collaborazione il discorso assurdo è che per questa colonna sonora sono state scritte prima di tutto 12 ore di musica cioè che è più o meno quanto dura un film in versione stesa esatto in seconda analisi il discorso è che our shore prende questo film e fondamentalmente scrive la colonna sonora in 4 anni perché lui dice che inizia a lavorare praticamente all'inizio della produzione da quello che avevo letto è durata circa 2 anni la produzione di fatto quindi 99 99 sì perché è uscito nel 2001 non ne ho la più pallida idea sotto questo punto di vista però il discorso è che lui già sapeva giustamente come andava a finire tutto è certo e quindi ci sono cose preparate nel primo capitolo che poi vengono sviluppate nel terzo e c'è un continuum in questa colonna sonora che è fuori di testa ah cioè lui l'ha assunto per lavorare a Compagnia dell'Anello ma ancora è stata talmente infissa che ha cominciato a farlo anche per il terzo film anche se potenzialmente incassava 3,50 e non usciva al terzo capitolo esattamente ora direi di iniziare a parlare un pochettino di musica ma anche la tua voce è musica Fabio e questa è una cosa che taglierò perché no? no è bellissima grazie grazie un cuore ad ogni modo allora il primo tema che noi in realtà riconosciamo è la seconda musica che sentiamo nel film se ci fate caso il tema diciamo della storia dell'anello comunque è incredibile io non so più se è quella musica che mi trasmette delle cose se perché lo fa la musica da sola o se è perché ormai è talmente collegata a quell'immaginario che mi trasmette quella cosa non so più niente sono confusissimo io ho visto con gli occhi dell'anima la scritta che si forma insomma nell'anello esatto cioè proprio l'ho sentita dentro di me perché è una musica antica ma allo stesso tempo malinconica allo stesso tempo che ti fa cagare sotto allora raga avete detto tutto cioè il discorso è senza ombra di dubbio è una bellissima melodia si canticchia rimane nella testa è suonata molto bene che glielo vuoi dire? fine? no invece no proprio per niente questa è la franchino comunque questa è la franchina criminale che fa la riflessione nove e mezzo pieno cioè che glielo vuoi dire? allora ragazzi adesso vi faccio capire come attraverso questo tema c'è tutta la descrizione di tutte le proprietà dell'anello partendo dalla parte alta io ve la faccio sentire al piano qui si entra effettivamente proprio nel mondo dell'armonia non è per niente una colonna sonora semplice da capire questa è una puntata che tutti potranno ascoltare assolutamente e anzi mi scuso con le persone magari super tecniche ma le cose che noi che abbiamo studiato 30 anni sui libri le sappiamo cioè diciamo tra di noi cerchiamo di spiegare meglio le cose a chi appunto non ha voluto perdere la sua vita appresso a queste cose quello che abbiamo appena sentito è il tema il tema è composto con delle note che noi possiamo interpretare con varie scale, in vari modi insomma cioè praticamente nell'armonia alcune cose hanno vari punti di vista e chi le studia le può interpretare secondo alcuni punti di vista è come se io dicessi Mauro Zingarelli è e uno dicesse quello che c'ha dei bicipiti della Madonna e fa il regista e un altro dicesse no è quello che porta gli occhiali e i capelli blu è la stessa persona però dipende da che punto di vista stiamo vedendo questa cosa ovviamente il contesto cioè gli accordi banalissimamente ci aiuta però in questo momento noi lasciamo da una parte gli accordi e pensiamo semplicemente alle note che compongono questo tema guardandole ascoltandole potrebbero essere interpretate in due modi tipo la minore oppure ad esempio come un fallidio un fa speranzoso che vuol dire fallidio? è un modo maggiore più maggiore del maggiore usato per descrivere il sogno in un certo qual senso ok? ora che cosa succede al basso? beh prima di tutto ci abbiamo un bel fa quindi è chiaro che non è la minore siamo in un bel fa ci aspettiamo il fa maggiore e invece no quindi se la sentiamo suonata ok? che cosa vi sto dicendo? nella parte dell'accordo se lo chiamiamo così si suona un fa minore ma la melodia suona un fa speranzoso maggiore in questo senso l'anello ti illude perché tu non sai esattamente dove andrà a parare non riesci a capire se è speranzoso o se di fatto è minore è subdolo è subdolo è ambivalente e questo chiude sul mi minore che è l'accordo che sentiamo dopo il secondo accordo che sentiamo quindi questo dove non c'è altra spiegazione è minore è minore è male esatto questa cosa costruita è già di fatto la spiegazione di come è l'anello certo e tu dirai vabbè ok un bastardo esatto abbastanza bastardo un tipico accordo minore bastardo esatto ora io vi sfido inoltre anzi faccio una domanda la differenza fra un corpo morto e un corpo vivo qual è? se respira o se gli batte il cuore se respira adesso io vi sfido a provare a non guardare quella scritta ma ad ascoltare non quello che succede sopra quindi questo tema che vi ho anche risuonato al pianoforte ma quello che succede sotto è il modo in cui gli strumenti che supportano tutto fanno un crescendo e poi un diminuendo passano da molto piano è scritto in partitura a molto forte da molto forte a molto piano come a descrivere il movimento del respiro crescendo e diminuisce ispira e ispira ok 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 erano quelle robe che partivano cioè che partono un po' dopo sotto esatto ok tu senti in realtà se tu provi seguire questa musica con il respiro ti rendi proprio conto che c'è una cassa toracica che si apre e si sgonfia e questa cosa è scritta in partitura e se tu ti rendi conto mentre lo stai guardando in realtà il tuo respiro si allinea su quella roba madonna comunque c'è che cazzo di matti scocciati ah quando ti dice Fabio che cazzo di matti scocciati quando ti dico io ma perché ma perché va bene ma ne è vero perché in audio non posso spaccare nulla se non il mio computer va bene va bene di per sé già queste sono due cose meravigliose perché appunto l'anello è vivo e inoltre sappiamo che una delle proprietà dell'anello è proprio il fatto che si può restringere e allargare certo a seconda del dito che lo porta esattamente e quindi di conseguenza all'interno di questo temino semplice in realtà ci sta già praticamente tutto è un anello di cui non sappiamo se fidarci perché fondamentalmente ci dà sul lato destro della mano passatemi il termine della speranza perché c'è un modo lidio ma contestualmente nel lato nella mano sinistra abbiamo un fan minore dopodiché abbiamo appunto questa questa cosa fisica questo respiro perché di fatto l'anello è vivo è già questo un bastardo quindi esatto un bastardo che respira un bastardo che respira che però ha un bellissimo viso questo è il concetto benissimo allora andando avanti ma non troppo in realtà noi sappiamo l'anello è uno ma ne furono creati venti giusto? sì e sono state date a varie razze adesso queste varie razze sono i nani sono gli elfi e sono gli uomini gli uomini benissimo nella compagnia dell'anello in particolar modo noi in realtà veniamo a conoscenza del fatto che il mondo è andato in rovina che tutta una serie di cose sono andate male ma in particolar modo una di queste tre razze c'è rimasta proprio sotto sì che sarebbero quella degli uomini diciamo sono quelli che subiscono di più l'influenza cioè più velocemente ecco perché pure i nani poi alla fine fanno una brutta fine perché sono gli unici mortali e quindi sono quelli per i quali la promessa dell'immortalità è più è più succulenta esattamente però c'è anche un altro elemento abbastanza importante il fatto che durante questo film noi conosciamo effettivamente alcuni di quelli che avevano ricevuto appunto nel prologo l'anello sì sì in Azkul esattamente i re degli uomini che poi si trasformano nell'ombra di loro stessi esattamente adesso se voi così decidete di contare le note nozi queste cose non me le devi dito odio qui comincio a arrabbiarmi questo è il momento in cui comincio a incazzarmi io te lo dico io per tutti quelli all'ascolto voglio ricordarvi che Marco Cioni in questo momento si trova nella stanza scenografia a registrare questa cosa io do fuoco a tutto a disposizione è bellissimo vai vai fammi sentire queste nove note mortasci se tu le conti sono nove uno due tre quattro cinque sette otto nove e tu mi vuoi dire che questo ha pensato a nove note perché erano nove gli uomini che erano più soggetti all'infanzo dell'anello io ti voglio dire che se tu prendi tutte le note suonate in questo tema e le suoni contemporaneamente ok rifallo no questo è il tema di Nazgul no vabbè posso dire una cosa Marco Cioni tankulato ma che cazzo stai a dire tankulato no vabbè sta roba è veramente da galera arrestate a watch out arrestatelo arrestatelo per tazzia artistica subito dai carabinieri subito neanche la municipale voglio proprio l'arma meno fatta ad arrestare persone è assolutamente così ti faccio sentire anche più tardi magari perché poi di fatto perché così ti calmi si oscillano anche queste note ecco spesso le sentiamo cantate appunto dai cori lasciamo stare anche tutta la questione dei cori che poi magari ne parleremo in un altro episodio tutti i cori che sentiamo che sembra gente che abbaia e basta in realtà sono cori che cantano nelle lingue della terra di mezzo sì vabbè perché poi c'è proprio tutta questa parte che sta fuori di testa c'è il fatto di inventarsi delle lingue esatto esatto e a Warshore ci ha messo in alcuni casi troviamo dei poemi o delle parti scritte che sono scritte all'interno del libro in particolar modo dell'Hobbit in altri casi sono stati scritti praticamente i testi per queste canzoni noi sentiamo solo un coro di 80 120 cantanti però in realtà ci sono delle parole e queste parole molto spesso sono in quenia e in tutte in tutte queste lingue che vabbè lasciamo cioè tu pensati quando sei uno del coro che ti arriva allo spartito e dici che cazzo che stai a lei ma che è è pugliese che roba è questa e poi comunque la tua voce viene ridotta a un ah sì e poi la gente da casa sente oh capito se lo vede dal cellulare ma lasciamo stare colgo l'occasione appunto per farvi sentire anche come viene riutilizzato ad esempio quando i Nazgul inseguono gli Hobbit e praticamente Frodo deve saltare sul ponticello ok se senti qui lo fanno le trombe ok non so se l'avete sentito se si va bene abbastanza perfetto questa in realtà ve la volevo far sentire anche proprio per farvi capire il livello di quanto con la cinematografia di oggi cioè dopo i primi anni 2000 questa musica qui è praticamente inutile cioè non la sentirebbe mai nessuno questo film è pieno zeppo di citazioni di incastri non solo di giochi vengono poi riutilizzati in ogni scena ed è veramente da sentirsi male cioè tecnicamente una volta capito il meccanismo potenzialmente questo film lo potresti vedere muto e sentirlo con gli occhi del cuore e sentirlo con gli occhi del cuore perché vabbè in realtà c'è un in realtà è abbastanza semplice il concetto io non so se voi sapete siete al corrente del fatto che prima di diciamo il signore degli anelli c'è stata un'opera che diciamo si chiama l'anello l'anello dei libelunghi tutta quella roba di Richard Wagner esatto l'anello del libelungo che vabbè preparatissimo Marco Cioni sì sì perché mi pare che c'è una mitologia sì ci sono le valchirie esatto non rena tipo che si esattamente e di fatto ci vabbè partiamo per il supposto che Wagner era un po' pazzo pure lui perché comunque quest'opera dura 20 ore e lui se l'è scritta la solo e se l'è scritta ma niente da fare sì cioè proprio sai che vuol dire dici mo scrivo un'opera de 20 ore daltronde nell'ottocento esatto ma che vuoi fare esatto o te prendi il tifo o scrivi un'opera però di fatto si parte come perché Wagner attraverso quest'opera ma non solo comunque Wagner in realtà è considerato il padre o comunque il maggiore esponente di quelli che sono i leitmotif o come appunto utilizziamo oggi nel cinema i temi che raccontano determinati momenti sensazioni persone ambientazioni quindi di fatto quando Howard Shore inizia a lavorare a questo film lo pensa sotto il punto di vista dell'opera quindi tipo archetipi musicali esattamente io inoltre so che Marco qualche puntata del podcast l'ha ascoltata Mauro forse qualcuna di meno ma secondo secondo me qui secondo me qui ci andiamo comunque a divertire perché voi vi siete concentrati in un certo qual senso su queste note unite che creano i cori o le trombe dei Nazgul sotto c'è un'altra parte e c'è un'altra parte che è un tema che noi sentiremo durante questo film parecchie volte ad esempio quando si tratta di come l'anello sia stato in grado di persuadere cioè di completamente comprare la mente degli esseri lo sentiamo ad esempio quando si scopre la pietra del futuro adesso non mi ricordo come si chiama la pietra il palantir bravo non possiamo spiegarci tutto le perdute pietre veggenti non sappiamo chi altri potrebbe stare a guardare l'ora è più tarda di quanto allora adesso ascoltate quest'altra cosa che ho risuonato leggermente al piano ok quindi questo passaggio è uno dei due che nel film ricordano il diessire il grande diessire che di fatto come abbiamo già raccontato in tantissime storie in tantissimi podcast è di fatto una parte della messa funebre in cui appunto in un certo qual senso c'è il giorno del giudizio io ci ho pensato in questi mesi abbiamo lavorato insieme ai video al format eccetera ho trovato un'analogia che vorrei proporti il diessire è come la barbapietola da zucchero in geografia se parli di colonne sonore e ci butti dentro il diessire 9 volte su 10 non hai detto una cazzata certo oddio è così vero vedi è importante o quello o la segale anche la segale però se vuoi la barbapietola da zucchero che sia l'Italia che sia il Messico Sudafrica o la nuova Zelanda e poi non l'ho mai vista una barbapietola non esiste non esiste non esiste sono i poteri forti che la raccontano non è vero quindi appunto il tema di Nazgul ha da una parte tutte le note dell'anello dall'altra un altro tema dell'anello che di fatto fa il verso al diessire e siamo già al sesto livello di lettura sul tema ti rendi conto e diciamo che per quanto mi riguarda almeno per adesso il tema dell'anello lo possiamo mettere da parte d'altronde sono ben nove note quindi ci abbiamo solo messo mezz'ora per parlarne esatto e siamo soltanto tecnicamente ai primi minuto e mezzo e abbiamo saltato i primi 14 secondi non so se volete aggiungere qualcosa in tutto questo ma no soltanto mortacci tua povero Howard questo può riassumere bene andiamo a parlare del prologo a questo punto perché vai perché c'è un discorso molto intelligente a prima di tutto la musica che sentiamo nel prologo il mondo è cambiato lo sento nell'acqua benissimo questo quello che noi sentiamo ok io penso che per voi sia abbastanza cioè sappiate che questo è il tema che poi risentiamo quando andiamo a incontrare Galadriel ok sì sì Galadriel nella foresta esatto Lothlorian in realtà è lei la narratrice di questo prologo esatto originariamente non doveva essere questa la musica che avrebbero utilizzato ma volevano utilizzare un tema che ascolteremo più tardi che è quello di Gondor senza alcun senso ma in realtà fondamentalmente non voleva essere svelato chi fosse questa narratrice il discorso è che però viene inserito poi questo tema per due ragioni la prima appunto la più semplice perché è Galadriel ma la seconda è proprio per stare a chiarificare che Galadriel e il suo popolo ci sono da prima dell'anello stesso ok ok e quindi arrivano per primi perché ci stanno da prima sono i custodi di questa storia esattamente questo tema è suonato se ci fate caso suona strano ah non ti può bene esatto quindi è un altro podcast suona strano esatto esatto better call suona strano suona un po' strano nel senso che fondamentalmente la scala utilizzata per quanto riguarda me lo faccio sentire diciamo il prologo al piano ok non è proprio melodio cioè non lo so non mi dà una sensazione positiva questa tecnicamente è la scala più orientale che troveremo all'interno di questo orientale c'è dell'oriente in effetti lo sento sento del carry perché gli elfi arrivano da oriente mortacci sua no 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 banalissima banalissimamente perché i popoli più antichi noi vogliamo fisicamente metterli più lontano possibile nello spazio e nel tempo cioè nel senso il discorso che se faccio una cosa che suona più lontano da quello che noi siamo abituati ad ascoltare quindi la musica occidentale automaticamente riesco a pensare a un popolo antico come possono essere stati gli egiziani i persiani ok ovviamente però qua stiamo in mezzo i boschi quindi come già giochiamo sta cosa prima di tutto c'è un coro femminile e questo coro femminile riproduce le stesse tecniche dei canti gregoriani in seconda analisi quando inizia questo tema noi sentiamo uno strumento dovete fare molta attenzione adesso vi metterò play di nuovo noi sentiamo uno strumento che sentirete sembra quasi come se stia facendo una percussione in realtà non è una percussione sono tutte corde che sono la stessa identica nota sentite vagamente ok sembra un po' come se si senti una bicicletta che gira questo strumento in realtà è uno strumento molto antico che è stato attribuito a pitagora infatti si chiama monocordo pitagorico ed è in realtà uno strumento col quale originalmente aveva soltanto una corda e si utilizzava un po' come diapason poi questo monocordo è stato diventato più corde ma la stessa identica nota quindi noi in questo pezzo sembra che sentiamo un coretto e basta ma in realtà ci sono dei cori appunto femminili che cantano in stile gregoriano che è lo stile latino più antico che abbiamo abbiamo il monocordo che è uno strumento costruito a quanto pare attribuito a pitagora dopodiché mica ci fermiamo qui ovviamente perché abbiamo prima di tutto sotto non si sente benissimo ma c'è un nei che è un flauto che oggi diciamo si trova facilmente in turchia però è un flauto che viene dall'antico egitto il primo reperto del nei è del 3300 avanti cristo ok e insieme c'è anche il sarangi che è una sorta passatemi il termine di violino indiano guarda te lo passo solo perché stiamo facendo un podcast non per tecnici altrimenti va bene è della famiglia dei sitar per intenderci ok così ti senti più tranquillo però pensate alla malattia di fatto va a prendere tutti i continenti conosciuti nel mondo passato prende uno strumento da tutti essi e ci fa il tema con la scala più lontana alla nostra musicalità che conosciamo degli elfi più antichi che ci sono comunque c'è veramente una roba folle anche perché poi il problema è questo è la stessa cosa che mi fa arrabbiare quando parliamo delle scene dei registi che si flashano cose che poi quanti effettivamente che non hanno sentito suona tipo bene il podcast si accorgeranno mai di questa roba posso spezzare una lancia a fumo di questa stronzata che Marco dice ogni volta per favore lo chiariamo una volta per tutte visto che è un processo che si affronta spesso anche io e Fabio abbiamo recentemente lavorato insieme su un cortometraggio e abbiamo quindi affrontato questo processo il punto non è che la gente se ne deve accorgere e che quando fai le cose ti devi dare un criterio con cui farle perché altrimenti se non ti dai un criterio con cui farle tendi a farle tutte uguali cioè nel senso in questo caso immagino che la questione sia cioè il processo mentale è stato bisogna prendere fare una cosa e bisogna farla bella però bisogna dargli anche un significato antico come faccio come faccio a dargli un significato antico all'ennesima potenza e dandomi una linea editoriale molto specifica prendo tutti quanti i paesi dell'antico esatto esatto il punto quindi non è che qualcuno se ne accorge ma ti metti una sorta di regola è quello del concetto e questa regola ti aiuta a creare una sonorità in questo caso ma nel caso di per esempio di scenografia stesso discorso uno stile che sarà per forza diverso dagli altri perché ti sei messo una regola che lo rende diverso dagli altri poi magari ti arriva anche dell'inconscio senza ombra di dubbio ci sono anche cose che arrivano dall'inconscio e questo purtroppo è vero nel senso che poi uno se si collega con la creatività a volte si rende conto dopo di aver fatto delle cose che è diverso sembra una paraculata Marco sembra che uno dice ah no no io l'avevo fatta apposta effettivamente poi ti rendi conto che magari in quel periodo stavi ascoltando mille cose di quel tipo e quindi che ascoltavi quel flauto del 3300 esatto cioè play hour short questa playlist su spotify flauti dal 3300 andare indietro esatto cercava registrazioni di gente del 3300 avanti cristo ovviamente su spotify registrava non si sa proprio usando gli dischi alieni che facevano le piramide esatto e poi però si cava perché magari un paio di cose stavano solo su tidal e quindi non le poteva sentire bene quindi andando avanti io direi che visto che abbiamo iniziato un pochettino ad aprire il mondo degli elfi passerei ad un altro luogo dove si trovano gli elfi che è Gran Burrone facendo un salto avanti nella storia perché di fatto in questa storia ed anche questa è una cosa importante che forse andrebbe sottolineata sempre cioè di fatto our shore è un po' come e adesso capite quello che dicevo all'inizio episodio è un po' come se si approcciasse a questa colonna sonora come il linguista fa a tutte le lingue che ci sono cioè cerca in qualche maniera di comunicare tutte le differenze che ci sono e tutte le differenze che non sono neanche spiegate in questo film questa la trovo una cosa affascinante in quest'ottica volevo chiederti Mauro se anche a livello produttivo sul set c'è uno studio del genere sicuramente sì però uno studio del genere in che senso legato a cose che anche banalissimamente vedere la differenza fra tra gli elfi ma il punto è che loro hanno lavorato talmente tanti anni su questa cosa per fare in modo che ogni singolo reparto potesse cioè hanno preso dei dei mastri ehm fabbri per fare le armature e le spade e poter fare tutto all'ennesima potenza proprio perché il mondo era talmente vasto che andava raccontato in ogni singolo dettaglio cioè eh ogni ambientazione racconta tutta una serie di cose che non ti puoi permettere di raccontare a parole perché non hai fisicamente il tempo e quindi cioè loro sono stati quattro anni a fare questa cosa e nient'altro quindi ovviamente ci hanno messo tutto quello che potevano che poi è il motivo per cui si ritrovano con così tante scene eliminate perché hanno raccontato tantissima roba che poi a un certo punto si è detto ok sono quattro ore a film non ce lo possiamo permettere e pian piano sono andati a tagliozzare però sì io non so Fabio se tu hai mai fatto l'esperienza di vedere i film invenzione integrale a volte sì ma cioè se parli la trilogia lezione degli anelli devi prenderti due giorni più o meno per vederteli temo di sì perché è proprio una roba lunga però bella cioè è proprio un'esperienza mistica ricordo fecero forse una proiezione al cinema di seguito a un certo punto che tra tipo 12 ore una maratona è tipo alla 24 ore di Le Mans praticamente solo al cinema e invece per esempio una cosa che io noto da persona che non lavora sul set ma solo in post produzione ad esempio quando arriva la Gran Burrone c'è un tipo di luce particolarmente diverso da tutti gli altri anche la color sembra diversa è tutto un po' più giallo questo pensi che sia legato appunto alla narrazione dei diversi luoghi ma guarda te lo dico questa mi è beccato super preparato su questa cosa di Gran Burrone perché se noti Gran Burrone è molto diverso nell'Hobbit nell'Hobbit è estremamente più verde e questo perché nel momento in cui arrivano a Gran Burrone nel Signore degli Anelli gli Elfi stanno morendo Gran Burrone sta morendo stanno finendo proprio gli Elfi come razze in realtà l'era degli Elfi sta finendo e infatti vanno via stanno tornando da dove sono venuti perché loro non sono originari della terra di mezzo in realtà e quindi Gran Burrone ha quei colori un po' autunnali è questo il concetto cioè Gran Burrone sta pian piano appassendo perché la vita sta lasciando gli Elfi e appunto se ti guardi invece l'Hobbit l'Hobbit è verde rigoglioso è tutto quanto splendido straordinario che figata quindi questo è il motivo di questa color particolare infatti se noti è pieno di foglie a terra sì le foglie cadute è un posto che sta pian piano morendo bellissimo ok fico sono molto contento di averti fatto una domanda sul quale eri preparato ero molto preparato ma non avevo molti dubbi sinceramente quindi spostandoci appunto a Gran Burrone Rivendell il tema che sentiamo quando arriviamo è questo ok suona dal piano è ok allora però c'è qualcosa che non voglio anticiparti sotto c'è tutto il resto sì ci sono dei cori angelici tutto quello che te pare ma infatti a me sempre ti ha smesso l'idea di hanno scoperto cioè il luogo sicuro della terra di mezzo quel paradiso nascosto che solo pochi ci possono entrare quella roba lì ma sempre allora avete entrambi pienamente ragione prima di tutto il coro femminile è leggermente diverso è gestito in maniera leggermente diversa rispetto a quello che abbiamo sentito e sentiremo nella foresta di Lorien cioè prima era un coro appunto fatto in una maniera molto più antica con pochissimi vibrati e in più appunto trattava in una scala molto più orientale questa è più vicina a noi è molto più accogliente perché di fatto quando si arriva a Rivendell Rivendell ci accoglie per aiutarci in un certo qual senso ma la cosa che dici te anche Marco è pienamente giusta perché fondamentalmente quando loro arrivano a Gran Burrone Gran Burrone è quel momento dove loro e anzitutto riescano a salvare Frodo poi rincontrano Gandalf che sembrava perso questo tema questo motivo ha due particolarità il primo è che ci accoglie con questo arpeggio e questo arpeggio in un certo qual senso a parte ad avere una motivazione molto particolare in questo film del quale però parlerò poi in un'altra occasione ha proprio questo senso di stupore di magia ok tra l'altro una soluzione del genere la troviamo anche in Star Wars subito dopo i titoli di testa quando vediamo per la prima volta lo spazio ecco però non è soltanto il fatto che appunto offre questa sensazione di stupore questo gioco armonico perché in realtà nel tema c'è un gioco in un certo qual senso per come è costruito che è perfetto per la spiegazione di quello che succede ai nostri personaggi a Rivendell il tema segue perfettamente le note del primo accordo cioè il tema fa così perfetto se io sotto ti suono un la maggiore senti che tutte le note tranne l'ultima sono appunto le note dell'accordo di la maggiore tranne questa perché se volessimo rimanere in la maggiore dovremmo sentire questa questa è la scala ok benissimo quindi abbiamo questa nota minore che non appartiene alla scala maggiore ma la sensazione non è minore quindi tu hai la sensazione che dovrebbe arrivare un minore ma non arriva ma arriva un maggiore quindi tu hai la sensazione che mentre la melodia va verso qualcosa di storto di sbagliato di negativo la armonia cioè gli accordi sotto vanno a supportare quest'ultima nota rendendola maggiore dandogli una nuova energia quindi è esattamente la descrizione di quello che avviene loro fanno un percorso qualcosa va storto ma per fortuna arrivano a Rivendell che gli dà nuovo vigore nuova energia quindi appunto secondo te questo non ha anche a che fare col fatto che cioè magari questa è una pippa mentale però il fatto che si aggiunga un maggiore perché è lì che si forma la compagnia quindi si aggiungono membri secondo me no nel senso sicuramente con questo ci hai provato guarda mi viene da rispondere no soltanto perché la compagnia dell'anello ha tutto un altro pianeta e quindi fondamentalmente non ci avevo pensato fino adesso e penso che in realtà la prima visione che abbiamo di Gran Burrone che io mi pare che c'ho proprio l'arrivo a Gran Burrone che è una roba dove loro rimangono proprio scioccati da questa cosa secondo me bisognava creare in tutte maniere questa sensazione e il fatto che si passi cioè noi siamo partiti bene ma in realtà stiamo non troviamo più Gandalf che lo aspettavamo da una parte e non si sa che fine abbiamo fatto grazie al cielo ci siamo salvati all'ultimo perché c'erano i Nazgul che ci correvano dietro ma Frodo sta per morire Frodo sta per morire arriviamo lì ed è tutto bello bellissimo incredibile ovviamente adesso Mauro mi insegna che non è bellissimo perché stanno a morire pure loro è un posto però è un oasi esatto un oasi di salvezza esatto e quindi in un certo qual senso a me da proprio invece la sensazione del stiamo passando perché in questa colonna sonora c'è tanto la descrizione fisica di quello che fanno e c'ha proprio la sensazione del stavate quasi a fine in male ma ci siamo noi quindi questa cosa dell'unione della compagnia dell'anello non mi viene in mente così immediatamente ma ci arriviamo farò il mio podcast in cui dirò che è così tanto chi ti può contraddire finta te sicuro hai più numeri non credo ad ogni modo andando avanti questi anelli perché noi siamo sempre partiti da a chi hanno dato tutti questi anelli finti abbiamo un'altra razza che è quella dei nani che poi non sono finti come? perché anelli finti? perché nella versione inglese nel prologo iniziale dice 19 di essi tipo erano trappolone trappolone ti davano di meno di quello che prendevano soprattutto ti legavano all'unico anello guarda io avevo visto questo lunghissimo video di youtube che spiegava tecnicamente come funzionavano gli anelli che erano una sorta di lo spiegavano nei termini dell'equipaggiamento tipo di un gioco RPG e il punto è che l'unico anello dà a Sauron un buff di mind control contro tutti quelli che indossano gli anelli creati da lui è come se hai un malus psichico quando incontri quello che c'ha l'unico anello che poi infatti diventi Nazgul wow bellissimo no è un casino esatto sì sì non lo consiglio di studiarlo è molto più facile questo generico concetto di anelli anelli finti anelli cattivi allora parlando dei nani noi iniziamo a sentire diciamo iniziamo a conoscere un pochettino il mondo dei nani fondamentalmente quando loro devono entrare a Moria certo ok benissimo partiamo appunto da quando loro arrivano davanti alle porte di Durin ok c'è scritto le porte di Durin signore di Moria dite amici ed entrate e che cosa vorrebbe dire oh è semplice se uno è amico dice la parola magica e le porte si aprono benissimo benissimo allora eravamo è facile eravamo davanti alle porte di Durin c'è una scritta in elfico e noi guarda caso sentiamo i cori così come abbiamo sentito quando eravamo a Gran Burrone e già questa è una roba però io vorrei fare un passo indietro e farci noi una chiacchierata chi so i nani quali sono le caratteristiche dei nani oltre all'altezza t'ho sentito t'ho sentito arrivare da lontano la parba vivono sotto le montagne si amano particolarmente i tesori l'oro si cioè si dice che gli anelli diciamo l'unica cosa che effettivamente hanno avuto come impatto sui nani sono il fatto che li ha resi molto avidi la fame dell'oro li ha li ha mangiati dentro ok e si sono incazzatissimi con gli elfi ok bene mi piace e boh non so mi viene in mente altro anche le donne hanno la barba non so se lo sapevi ma è così e anzi è considerato una caratteristica particolarmente apprezzabile ok questo in musica non l'ho trovato tradotto ok peccato non so Mauro che altro c'è io direi ad esempio che quantomeno il nano che noi conosciamo è decisamente molto più burbero rispetto a tutti gli altri personaggi molto meno elegante sono chiusi ecco sono una razza abbastanza chiusa chiusa burbera possiamo dire anche in un certo qual senso non troppo una volta che si stufano non so troppo rispettosi delle regole emotivi diciamo emotivi in tutti i sensi vediamo che a un certo punto arrivando a un certo punto lui si rompe le balle e cerca di distruggere l'anello quindi da proprio questo senso noi abbiamo proprio questi personaggi che sono persone abbastanza burbere che lavorano i metalli come abbiamo visto benissimo tutte le musiche e il tema di Moria in particolar modo sono costruite su il rapporto di quinta ok questo in musica è il rapporto più forte che esiste è una questione di fisica acustica ad esempio all'interno del do ci stanno tutta una serie di armonici naturali il primissimo armonico perfettamente dietro a quello che sarebbe il do sarebbe quella che poi nel sistema occidentale viene chiamato sol e quindi la sua quinta quindi hanno una grossa forza ok o meglio ancora una grossa stabilità hanno due peculiarità la prima appunto è che appunto sono il rapporto più forte in assoluto e quindi di fatto se pensiamo a Moria alla costruzione ai pilastri fondamentalmente viene riprodotto a livello musicale quello che i nani riproducono a livello fisico la seconda cosa è che e questa bisogna un attimino spiegarla in maniera semplice la prima cosa che si studia quando si studia contrapunto composizione scrittura diciamo di musica la prima cosa che si studia sono una serie di regole che poi nella storia sono state infrante oggi non sono quasi neanche più delle regole ma quando noi iniziamo lo studio della musica una delle regole prime regole che bisogna imparare è che in scrittura non bisogna mai fare le quinte parallele significa per i non musicisti che ogni volta che io passo da un accordo passatemi il termine all'altro io non posso diciamo muovere la prima e la quinta nota della scala che crea l'accordo quindi l'accordo è fatto dalla prima terza e la quinta io la prima e la quinta non le posso muovere nella stessa direzione per suonare il prossimo accordo ok praticamente non posso staccare il ciocco per riattaccarlo più avanti questo non si può fare la motivazione come ho detto è una motivazione che viene da un periodo storico in cui a livello di estetica parliamo del rinascimento in poi praticamente diciamo questa cosa non era considerata bella in realtà sta nel fatto stesso che appunto questo rapporto è così tanto forte che si sente proprio cioè è più potente rispetto agli altri e quindi in un periodo storico in cui era importante che ci fosse armonia fra tutte le voci cantate questo movimento era considerato un po' too much ora tutto questo per dirvi che il tema di Moria e dei Nani è fatto tutto per quinte parallele è una musica vietata è una musica ignorante rozza è una musica rozza che te viene sotto è una musica che si disinteressa della regola è la musica di Elettra Lamborghini sì esatto stai dando della nana a Elettra Lamborghini no non lo so non l'ho mai vista in realtà in realtà vi racconto una cosa ancora anzi ci arriviamo dopo prima vi faccio sentire ma hai Elettra Lamborghini? no non c'ho Elettra Lamborghini stavi andando dritto perché tu avresti voluto tagliare tutta quella parte no quindi vi faccio sentire prima di tutto quando loro sono fuori questo dovrebbe essere ed entrate qual è la parola elfica per amici? mello ok dice la parola e adesso sentite ok avete sentito? sì sì cioè gli ottoni più alti che fanno la parte più alta si muovono e fanno queste quinte parallelle che sono quelle che noi sentiremo a Moria ad esempio vi faccio un esempio di quando loro scappano dal dal Balrog che era questa cosa proprio ok certo oltre ad essere ignoranti non sono neanche tanto positive come sensazione che ti arriva a me mi arriva la serie occhio che sta entrando in un posto che potenzialmente non è proprio positivo senza ombra di dubbio anche questo ci sta ma quello è semplicemente come poi vengono gestite una serie di movimenti appunto se si muovono per terze minore o cose del genere questa è un'altra questione però quello che appunto volevo proprio farvi capire è come attraverso degli esperimenti musicali vengono narrate delle cose molto peculiari del luogo dove siamo e dei personaggi di cui stiamo parlando quindi quinte parallele in un certo qual senso di nuovo possiate il termine roze o in un certo qual senso che non rispettano le regole di quel periodo storico o anche semplicemente proprio in your face sfacciatamente preponderanti ecco la cosa ancora più buffa è che le quinte parallele dovete sapere non so qualcuno di voi ha mai suonato la chitarra a livello no ok benissimo diciamo che negli anni 80-90 si sviluppa un genere suonato con la chitarra elettrica che si serve molto di quelli che vengono chiamati power chords questi power chords non sono nient'altro che appunto la prima e la quinta suonate contemporaneamente che vengono spostate in su e in giù per il manico facendo appunto tutti gli accordi che servono quindi di fatto è proprio un genere basato sulle quinte parallele e questo genere si chiama heavy metal metallo pesante ah mazza bravi questi così eh capito quindi i nani sono heavy metal questo è il punto i nani sono i metallica esatto e quindi poi è i nani i nani esatto da lì è un attimo è un attimo proprio non c'è altra alternativa quindi insomma c'è anche questo è assurdo come è spiegato in maniera incredibile il fatto appunto che i nani abbiano tutte queste caratteristiche e la loro musica le rispecchia tutte certo adesso prima di raccontarvi un paio di cose che io trovo molto fiche e poi andare a chiudere vorrei dire una cosa che per me è veramente importante a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di questo podcast per la prima volta penso letteralmente in tre anni vi parlo non solo con cognizione di causa ma anche proprio col cuore se non fosse stato per le persone che hanno supportato questo podcast fino a oggi molto probabilmente il podcast sarebbe morto non avrei avuto assolutamente la possibilità di poterlo gestire e nonostante tutto è realmente faticoso e difficile andare avanti io ho tutta l'intenzione di continuare ma quando abbiamo aperto il Patreon non avevo la più paida idea di quello che effettivamente sarebbe stato portare avanti questo progetto e di quello che poi effettivamente il creator può prendere dopo aver giustamente pagato le tasse e le fee di Patreon per poterli sfruttare per il progetto come sapete creare contenuti di qualità richiede tempo impegno e risorse e per poter continuare a offrire il meglio ho bisogno del vostro sostegno dal momento che questo podcast non ha ad oggi alcuna sponsorizzazione né monetizza su nessuna pubblicità infatti ho bloccato la monetizzazione per pubblicità in modo da renderlo più fruibile più piacevole per tutti voi il goal che vorrei raggiungere è quello di mille iscritti paganti al Patreon so che può sembrare una cifra super ambiziosa lo è ma è fondamentale per garantire la sostenibilità del progetto con questi fondi io posso finalmente cercare di migliorare l'attrezzatura dedicare più tempo alla ricerca o avere qualcuno che mi aiuta nella ricerca e alla creazione di contenuti e magari anche coinvolgere persone che non vengono come le persone squisite che sono venute fino a oggi a titolo totalmente gratuito questa cosa è meravigliosa ma capite da voi che ovviamente chiedo spesso due o tre ore del loro tempo il vostro supporto non solo mi permette di mantenere il livello alto di qualità che poi è quello che vi aspettate ma spero che ci darà la possibilità anche di crescere e magari innovare ogni contributo grande o piccolo vi giuro fa la differenza basterà andare su www.suonatipobenefattori.com e scegliere il livello al quale volete sostenere spero di non essere stato troppo prolisso ma è diventato veramente di fondamentale importanza e credo che tutte le persone che sono arrivate ad ascoltare questo podcast sappiano quanto lavoro c'è dietro ogni episodio quindi ancora un'ultima volta se credete nel valore di questo podcast andate su www.suonatipobenefattori.com e arriviamo a mille iscritti grazie e adesso ancora una volta per questo mese lasciatemi ringraziare i miei ricordi che sono i Patreon che supportano il tier più alto che in questo mese sono il lunatico è sull'erba Manu Buio Xdd che in realtà è una faccina sorridente Sara Oswin Sio Folco Panizza alfabeto fonetico un tempo per domarli un tempo per trovarli un tempo per ghermirli e nella pizza renderli signori del tempo Zaraton Pyrostik di Professione NPC e Wii Uki 93 grazie infinite a voi miei ricordi e grazie a tutte le persone che sostengono questo podcast e adesso andiamo avanti e andiamo a chiudere ovviamente non ci fermiamo qui perché quando entriamo a Moria c'è un problema più di uno più di uno ok c'è più di un problema c'è da dirsi c'è più di un problema allora io come prima cosa che volevo farvi notare ma penso che sia una cosa abbastanza nota è che oltre alla musica di Moria c'è un coro c'è un coro maschile che ancora l'abbiamo citato in questo episodio che è composto da 60 diciamo cantanti neozelandesi 50 un coro professionista 10 sono giocatori di rugby cos'è questa nuova diavoleria un balrog un demone del mondo antico è un nemico al di là delle nostre forze facciamo e anche questa oggettivamente una trovata veramente bella al di là del fan fact poi proprio voler rappresentare un mostro che noi ancora non vediamo che viene dal profondo della terra con le voci più basse e più profonde da una parte il coro appunto professionale con queste voci bassissime dall'altra quelli che noi conosciamo come l'haka poi alla fine e quindi questi versi vengono chiamati grounders appunto che fanno paura in un certo qual senso è veramente intelligente come idea ovviamente il coro qui non sta semplicemente facendo suoni ma sta effettivamente cantando parole in kuzul che è la lingua dei nani in cui in poche parole raccontano quanto è pericoloso quello che sta arrivando adesso questa diciamo del coro maschile è una cosa che si sente quindi immagino che sia una cosa abbastanza nota insomma ce n'è un'altra invece che a me mi fa impazzire io vi voglio far ascoltare un piccolissimo punto che purtroppo perlomeno nella versione che ho trovato io di film non c'è è stato tagliato questa piccola traccia di musica questa traccia di musica noi la vediamo un istante prima che loro scelgano di andare a Moria quando stanno sul ciglio della montagna e hanno il problema con Saruman che gli fa cadere tutte le valanghe e il nano dice passiamo per Moria e gli altri non sanno bene però noi vediamo inquadrato quasi fermo immagine Gandalf con i suoi occhietti che dice me sa che stiamo a fare una cazzata e qualora non si fosse capito abbiamo Saruman che lo spiega e dice ah te stai a cagar sotto benissimo in quel punto preciso a partitura ci sarebbe stato questo che viene chiamato cluster discendente lo faccio sentire benissimo un semplicissimo commento sembra un presaggio sempre non positivo no per niente positivo il discorso è che questo significa è semplicemente una cosa che sale sempre di più che diventa sempre più pericolosa e noi vediamo gli occhi di Gandalf che dicono me sa che è meglio di no il discorso è che il cluster è fatto in questa maniera e ve lo faccio dopo anche riascoltare se volete noi sentiamo una prima nota cioè un violino che suona una nota dopodiché si aggiunge un altro violino che suona un'altra nota che sta più in basso di quella sopra e quella sopra rimane dopodiché si aggiunge una terza nota che sta sempre più in basso e quella sopra rimane dopodiché si aggiunge la quarta e la quinta ed è tutta così fondamentalmente noi vediamo il passaggio e l'aumento del dramma mano a mano che si scende adesso noi vediamo negli occhi di Gandalf che lui sa perfettamente perché i nani non stanno messi benissimo perché hanno scavato troppo a fondo e hanno risvegliato qualcosa che era meglio lasciare sopito esatto quindi in un semplice commento ovviamente è chiaro non si capisce però a partitura si vede proprio cioè a partitura tu vedi cioè loro stanno scendendo fisicamente nella partitura esatto più vai giù peggio è è come se fosse voi vi dovete immaginare un punto accanto due punti uno sopra l'altro accanto tre punti accanto cinque punti sembra proprio che si sta scavando verso il basso hai capito Howard hai capito quattro anni quattro anni quante pippe ti puoi fare in quattro anni eh capito direi che qui ci fermiamo intanto per adesso se per voi va bene alle porte di Moria alle porte di Moria e ancora non abbiamo parlato minimamente né della compagnia dell'anello né della contea né la contea forse è il mio tema preferito capito quindi secondo me c'è ancora parecchio ma noi siamo qui soltanto per la compagnia dell'anello o anche per le due torri di Torno del Re perché se no ragazzi cioè queste saranno tutte le puntate da qui al 2026 allora noi intanto siamo qui per la compagnia dell'anello poi vediamo comunque raga io vi ringrazio infinitamente per aver accettato questa cosa Mauro in particolar modo lo devo ringraziare di più perché sono solo tre anni che sono solo tre anni no è la cosa è la cosa che è comunque di meno di quello che ci ha messo a cuarciora a fare la colonna snora prima di tutto esatto grazie mille a te per l'invito grazie mille a tutti i Patreon che sostengono i progetti suona tipo bene molto importante mamma mia vabbè ragazzi detto questo noi ci sentiamo alla prossima grazie ancora e niente ciao ciao bye bye ciao ciao